I Cacciatori del Cielo, il film sulla vita e le imprese di Francesco Baracca. Silvio Scaroni, l'asso che divenne generale. Bentornati con le notizie di Videonews. A fine novembre sono iniziate in Veneto le riprese del film sulla vita e le imprese di Francesco Baracca. Il servizio del tenente Giuseppe Di Feo. Si intitola I Cacciatori del Cielo, il docufilm dedicato a Francesco Baracca, asso degli assi dell'aviazione italiana, e a Pierruggiero Piccio, primo capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica, che la RAI trasmetterà a marzo 2023 per celebrare il centenario dell'aeronautica militare attraverso la rievocazione storica del coraggio e delle imprese dei personaggi che portarono alla nascita della Forza Armata. Le riprese sono iniziate a fine novembre sul campo di volo della Fondazione Jonathan a Nervesa della Battaglia in provincia di Treviso. Per l'occasione sul set era presente anche il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti. È un'opportunità che la produzione Anele ci offre, con la partecipazione di un attore di altissimo livello come Peppe Fiorello, per ripercorrere la storia di due personaggi che hanno contribuito a far partire l'Aeronautica militare. Baracca come mito e Piccio come capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare. Sono due amici che si sono incontrati, hanno avuto vicissitudini varie, e possono, a mio avviso, dare la possibilità, specialmente ai giovani, di creare quella curiosità che potrebbe essere un aiuto per poter decidere di entrare in Forza Armata. Il centenario ci dà questa possibilità, l'occasione c'è, l'ambientazione c'è. Essere oggi qui ad assistere dietro la cinepresa, almeno per una volta, come vengono fatte queste riprese, è anche per me una curiosità unica e ne sono veramente contento. A vestire i panni di Francesco Baracca, l'attore Giuseppe Fiorello. Racconteremo in parte in versione, diciamo così, cinematografica, in fiction, i personaggi di quell'epoca, in parte con immagini in repertorio e in parte in animazione. Quindi è un progetto per me anche originale, nuovo. È la prima volta che mi trovo ad affrontare un progetto che ha tre dimensioni narrative. per immagine e anche per contenuto e sono molto felice. I Cacciatori del Cielo è una produzione anele in collaborazione con Aeronautica Militare, RAI Documentari e in coproduzione con Istituto Luce Cinecittà e il sostegno d'Intesa San Paolo. Il film è diretto da Mario Vitale, prodotto da Gloria Giorgiani, scritto da Pietro Calderoni e Walter Lupo, con la collaborazione di Mario Vitale e la consulenza di Paolo Varriale. Medaglia d'oro al Valor Militare, 26 abbattimenti confermati, secondo nella graduatoria degli assi italiani dopo Francesco Baracca. Parliamo del generale Silvio Scaroni, al quale è dedicato il libro Silvio Scaroni, l'asso che divenne generale, a cura di Paolo Varriale ed edito dall'Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare. Il nostro servizio. Silvio Scaroni non fu solo un pilota straordinario, ma come sottolinea nella prefazione il generale di squadra aerea in ausiliare Alberto Rosso, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, fu soprattutto un grande amante del volo, appassionato, entusiasta e dotato di un grande senso del dovere che lo accompagnarono per tutta la vita. Il libro di Paolo Varriale, Silvio Scaroni, l'asso che divenne generale, rende omaggio alla figura di un grande aviatore italiano, diventato asso in un tempo rapidissimo, appena otto mesi con cinque abbattimenti confermati. Ferito gravemente, non prese parte alla fase finale del primo conflitto mondiale, fu nominato addetto aeronautico a Londra e a Washington ed ebbe numerosi altri incarichi prestigiosi, prima di ritirarsi dalla Forza Armata nel 1943 con il grado di generale di divisione aerea. La sua figura è un esempio della continuità dell'aviazione italiana dalle origini fino alla costituzione della reggia aeronautica e anche oltre. Rappresenta e racchiude in qualche modo quell'intera generazione di piloti che poi nel 1923 rappresentò il nerbo della Forza Armata. Riuscì a eccellere come pilota e poi come ufficiale in una varietà di incarichi grazie a delle caratteristiche di tenacia, impegno, costanza che nel mutare delle situazioni, dei mezzi, di molte altre cose sono ancora oggi alla base della Forza Armata. Il volume è stato scelto per la pubblicazione tra le proposte editoriali presentate per il bando di concorso Call for Paper, indetto in occasione del centenario dell'aeronautica militare. Edito dall'Ufficio Storico della Forza Armata sarà presto disponibile sullo store Amazon dell'aeronautica militare. Videonews termina qui. Dall'aeronautica militare a tutti voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri di buone feste! Grazie a tutti!